Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa seconda parte del video perché là dovevo fare cose quindi non ho finito il video Adesso però invece di andarci con questa, andremo con lei, che ha un casino di stili Vabbè mettiamo lei, ho detto lei, mi metto magari uno zainetto per lei, una banana Lei mi ha detto nuove cose, questo che posso personalizzare ragazzi, ma che ne dite? Di andarlo subito a personalizzare Andiamo, come si chiama, non lo so, ma sono tutte cose bloccate o ancora, ah non è vero mai Ah raga non me l'ho detto ma, ora sentirete una voce, che non è un filtro mio Parla, parla, eh? Sì va bene, raga è mio fratello Sì c'è pure mio fratello in questa seconda parte Che si chiama? Che si chiama? Giuseppe Tapparleto No! Non è vero, si chiama Giuseppe 8 Vabbè Giuseppe No Gioppino M65 Ah vero, se lo volete cercare Gioppino M65 Se mi volete cercare su Ford mi chiamo Gioppino M65 Sì ma adesso andiamo a fare la partita Ok, il pasto, nooo, ma poi perché ho lasciato questa foto brutta? Non ci so più Eh raga, comunque carina è questa skin Non è il massimo però è carina Mi fu uscita da calciabro Ok, devo fare una missione e credo che il mulinello dovrebbe essere questo, vero? No Il mulinello sì, non lo so cos'è il mulinello Si vede lo squalo What? Si vede la punta dello squalo Dov'è? Qua! No Guardate la pingo Vabbè, nooo Il naso dello squalo c'è, dai, nooo Ma è quello? Sì, sì, guardate Sì, è il cochi Dai Guardate Dai Andiamo giù Ma sa che sei atterrato un po' troppo lontano? Vabbè, comunque è perché stavo guardando là lo squalo Comunque sì, è lo squalo quello Sì Perché le scorse non sono scomparsi nell'uno Ci sono, ma so attacco Oh mio Dio Mi sto girando tutta Ok Eh sì Ma questa è la prima cosa Ma che cosa è sto cosa? Io lo so Io l'ho provato Ragazzi, butta Ma Bassissimi Bassissimi? Sì Identico agli altri Ma non è bello Dunque non l'hai fatta la missione Ah, non mi ha detto la missione Allora Ragazzi, mi potete dire nei commenti cos'è il mulinello? Perché A me sembrava che questo è il mulinello, ragazzi No Posso poterlo messo? Anche qua è tutto normale Lago languido? Sì, è tutto normale Perché è sopra una collina Ah, sì Oh, la cosa si è fighissima Sono queste case messe qua sopra Vabbè È vero Però alcune case sono proprio approfondate Sì, alcune sì Però secondo me devono essere tutte così Eh Questa che figata Dormi Poi Ma che cavolo Eh Non ho acceso la luce Uh, accendi Ok Oh no Questo cos'era? Non lo so Quello vicino a sabbia sudata Ah, è il camion brutto Ma non è un camion brutto Lo vedi? È un camper bellissimo È un camper brutto No, è bello No, è brutto È bello È brutto Vabbè, è brutto È brutta Non ci vedrai Aspetta un attimo Uh No La leggenda non è vera No Entriamo qua a sabbie sudate No Trovi una pistoletta No, hai ancora il pompa supremo E non trovi il pompa supremo? Non ci credo Eh, non l'ho trovata Dai, è un pompa supremo Ma non è supremo Che c'è di supremo? È brutto Ma Si è tolta l'acqua da qua Ma Com'è possibile? È salita l'acqua L'acqua è salita Invece qua è scesa Ma che Poi le cose non devi più lasciare Ma che Devi tenerlo Allora facciamo questo Ma perché Ah, ma Quindi sott'acqua c'era questo? Che schifo Che schifo Ne vai Pure su forno C'è Oh Canna pesca Che cosa hai detto? Lì in cui ti guarda me Sott'acqua c'è il pompa 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 Troppo bello No C'è il cerchino brutto Non è brutto Ah si è blu Ah si sono tornati i cerchini blu Che volevo dire Perché mi senti la tua bruttazione È vero Inferire a tutte cose brutte Eh si Qua non si è allagato niente Oh ma se tornava l'arma tamburo Arma tamburo blu Bianca Perché Quella forte è quella di Mila Vabbè ma quella blu L'unica originale è quella di Mila Ma è vero L'originale Che c'è stata più sposta è stata quella La tomba Vero Quella blu Che c'è stata prima di questa mitica Vero Wow Non si so pipo Ma vero dici Ti faccio la pipì Ma smettila Ah stai Vabbè Giuseppe è andato Eh perché dice Dobbiamo fare La città di qua Vabbè Ma che cavolo fa Ma si butta dal letto quello Eh Ho creato L'America Vediamo Adesso cade Eeeh Magalena Sì quello che cercavo Mi leggono tutti la mente Sto gioco Uuuu Waa Sciamala Mumu Comunque io ancora non ho provato A pilotare quel cavolo di squalo Tu ce l'hai fatta Giuseppe No Vabbè vabbè Se ti llora Se ti adora Uuuu Vabbè col motoscafo Ahahahah 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 Raga Mandate sto video Mettete like Mandatelo a tutti i vostri amici Iscrivetevi Soprattutto Seguitemi su tiktok Franci83p Tutto piccolo E tutto attaccato Franci83p Tutto attaccato Tutto piccolo Ah comunque Ieri Non ho avuto il tempo Di editare il video Quindi L'ho solo attaccato In due parti Quello Dell'evento Eeeh Le scorregge Oh mio dio C'è un combattimento estremo Il coso di Harry Potter Raga Mi butto Giusto Sono del tuo pompa Che dici che è troppo forte Qua che colora Bianco E l'ho ucciso in un colpo Te l'ho detto Che hai col pompe supremo No La tempesta Mi sto prendendo Ma c'è la strada Tutta qua sotto Allagata Poi il negozio Di pomodori È andato via Squalo Dov'è sto Squalo Non esistono più Gli squali Gli squali Non esistono più Ah poi Quanto sto odiando Per ora Tutta sta acqua Madonna mia Mi piace l'acqua Farmi bagno Però Quando c'è l'esagerazione No È brutta mida Se la rivedo Li do una scorreggia Però non la posso rivedere più Perché è stata mangiata Da quello squalo Ti mi asco Io ho visto qualcosa Credo di aver visto qualcosa Anche tipo Un pompa Tipo qualcosa Non so Non è un pompa normale È una nuova arma Che nel trailer Si è visto 40 milioni di volte Ma che cosa Ha fatto Sono caduto Mi so fatto danno Ma Non era così alto Questo blu Fa schifo Secchino Ma perché C'è metà Tutta così Ma che cos'è Si che non l'ho sbloccata Però Metà proprio Tagliata Con un necce Wow Non è andato In acqua Ah sbagliato No La tempesta Si muoverà Wow Comunque Avete fatto caso Che non è più Tsunami Mi sa che L'hanno usato Tsunami Solo per Tipo fare Allagare tutto Perché non è più Tsunami E stavolta C'è arrivata Wey Ma se la mandiamo Là Che succede Niente Non scopriremo mai Misteri di forne No Che sta succedendo Andiamo lì Andiamo là Ah Tutto bagnato Ah Togliti Ok Però peschiamo qui Qua sappiamo Il misterio di forne Però non Sì Devo mangiarlo Perfetto No ho sbagliato Ok Vieni Prendiamo qualcosa Well No Oh no Ma che cavolo Perché c'è un cane Che va Qualcuno ha provato A cecchinarmi Mi sa che C'è riuscito Oh mannaggia Aio Aio Ah La tempesta Ragazzi Da Siamo alla Glagoda Ah La mia sedia Raga Comunque Stiamo scoprendo Un bel traguardo Già Ed è Questa volta Guardate Quasi Solo Quasi tre settimane Che faccio youtube E già siamo In 34 Credo L'ultima volta Che ho guardato Eravamo in 34 Ah Arriviamo a 40 Dai Eh Vabbè Saremo fortissimi Siamo fortissimi La squadra 8 Non sarà più una semplice squadra Sarà La super squadra 8 Un pompa Io ho bisogno di un pompa Quindi Tolgo questa E metto il pompa Ok E' di qui Una canna da pesca Wow Che bello Ok ma già ce l'aveva Vabbè Andiamo di là Che sta succedendo No vabbè Mi sembrava una macchina Ma non era una macchina Una semplice Pupido carretta Però Si può guidare Questa Perché Nel trailer C'erano Raga No Non è giusto Vabbè Quello che c'è nel trailer Apparirà sicuro Perché Apparirà Apparirà sicuro Perché hanno pure detto Nuovi veicoli Come scappare O spostarsi Sì quindi Sicuramente Succederà Qualcosa Che Affarirà Facciamoci una canna No Oh mio dio Buttiamoci Con la nostra canna Da pesca Sergente Capitano Marina Parrenta Vediamo se ci arriva In acqua No Non ci è arrivata In acqua Però stavolta ci arriva Non ci è arrivata Neanche Ma Si possono pescare Le armi Per esempio Io faccio così E vabbè Si possono pescare Le armi Da quando Forse sono io Scema E si potevano pescare Dalla Siso 1 Per esempio Non lo so Non me ne sono mai accorta Cosa cacchio Non c'è l'esercito Di Marina La tempesta Fa male Aiai Fa malissimo Ma che cos'è Sono un portento Queste cose Raga Soffro Vabbè No dai Ci muoio di tempesta No Dai no Ho sbloccato I nuovi picconi No 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 Ecco i nuovi picconi Equipaggiamo subito Wow Ok Adesso cosa c'è Dopo I picconi Dovrebbe essere Sì questo A livello 11 Ma che cos'è Poi 100 V-Buds Leggendario 100 V-Buds Sì Questo Basta Non è manco il mio Perché portano a passeggiare I cagli Poi superando questo dipinto C'è questo Ma che cavolo Questo coso bellissimo Altri 100 V-Buds Wow Bellissimo Questo cos'è Una bacca Altri 100 V-Buds Altri 100 V-Buds La sorella di Mida Che se andate nel video precedente Nella stanza di Mida Si vede Si vede in pratica Ecco Infatti il coso poi Di la sorella di Mida Si vede che c'è Il suo dipinto Tutti lavorano Altri 100 V-Buds Questo coso Che bello Poi questo balletto Che è L'originale Quello normale Quello di Mida No Ok Questo Aspetta che Questo cos'è Boh Non lo so Altri 100 V-Buds Weee Mia No Kitty Kitty Diventa ovviamente Quello Bravo Vabbè Quello spettri E quell'ombra Ma che figata Poi c'è Tutti questi Che cosa è questa Va bene Poi c'è Queste cose Non sento Fanno schifo Al Due volte 100 V-Buds Ma che cavolo Poi L'astronauta Che Sicuramente Ha più stili Weee Vabbè La prossima season Secondo me Sarà Di questi Perché qua E' pieno di sticosi Che cos'è Raga Io ho scommetto Che la prossima season Sarà De De pianeta Vi immaginate Se ci portano Un altro pianeta Fighissimo Poi Weee Cavaliere Eterno Vabbè Sarrebbe Cavaliere nero Fim Ecco Poi Questo Che Non è un'altra skin Ma è semplicemente Lo stile finale Di sto qua Vedete Si prende infatti A livello 100 Si lo so Infranto I vostri sogni Si Che credevate Un'altra skin Ma non è così Possiamo andare A fare un'altra partita Andiamo Ok Ho messo a squadra Questo è un mio compagno Ciao 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 Ok raga Andiamo Ok Comunque questa season Da un lato è brutta Da un lato è bella Il lato brutto Iniziamo da quello brutto È che C'è troppa acqua Troppa 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 Ed ha dato bello È che Mida non è riuscito Proprio su piano Che sennò Era la fine di fornet Vabbè E L'altra Non c'è Si invece che c'è Però Me la so scordata Però Non era una bella Perché quel tizio È droppato Ma che cavolo Poi hanno aggiunto Il fucile da caccia Bruttissimo Però se Prendi con attenzione È forte Però Ah si L'altra cosa bella È che È tornato questo Depp Se è andato Dalle scatole Poi Chi è pingato L'ama Che cavolo Aspetta Andiamo Ora dico a tutti Che andiamo Al parco pacifico Inondato Andiamo tutti Al parco Volete andare All'agenzia E andiamo A sta agenzia Mannaggia 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 Dov'è quella viola Ma tutti là Si so Perché non si buttano D'acqua vicino Mannaggia Io tutti Pesci Toglietemi Dalle scatole Pesci Oppure Ho chiuso La porca del barcone Ma Gridano ancora Come passi esterici Ma che cavolo Chi Ah vero Eh Devo prendere Io L'arma Di mida Eh Non la di mida Della sorella Di mida Perché è la sorella Di mida Tutti dicono Che è la sorella Di mida Infatti Dai Ma quello Non ha fatto niente Praticamente E è arrivato E si è Vabbè Stavo partendo Una parola E si è fregato Si è fregato L'elico Stiamo scherzando Tu Stai scherzando Vero Tu non riuscirmi A accorpire Ma va a cagare Mi ha ammazzato No vabbè Ma c'è pure uno Che lagga Poi chi Come ti permetti A venire Con questa skin Ma che cos'è E vabbè Questo lagga Ma sono morti tutti E' rimasto Solo lui Che è laggato Come un maiale No Come ha fatto Quello rimino Ma che cosa Ok Quello è uscito E' crashato Tantissimo Ma poi Se non mi vengono Ma ehi Praticamente Vabbè Pure lui Con chi sono Con dei nabboni Enormi Ma proprio Cosa Venitemi Ad aiutare Ah no Ah no Me l'hanno raccolta La scheda Me l'hanno raccolta No Quello è il rampino Di la sorella di vita Dai Ma perché sto guardando Sto nabboni Ma poi mi guarda Magari Raga mi stanno Rianimando Si Quello è crashato Proprio Ma tantissimo Siamo in 39 Ce la potremmo fare Ecco Dove siamo Già La mia telecamera E' un po' zitta Eria Ma Ma si può decidere Dai Oh yeah E vabbè Raga Ma questo è bravissimo Ma mi ha detto che star Ma è bravissimo Mi ha detto pure Il leggendario Sto arrivando ad aiutarti E vabbè E vabbè Mio Perché Vabbè Comunque è stato gentile Io non l'avrei fatto L'ammetto che non l'avrei fatto Ammetto Che non l'avrei fatto Apriamo questo Oh mio dio Qua sono C'è teletrasporto Si Infatti C'è teletrasporto ancora Dove? Ah Qui Si ok Giusto Ok Saliamo Ehi Dove siete Ragazzi Dove siete? Lascio spazio per chi vuole salire Ed è i miei compagni Se non glielo ho chiuso in faccia Oh dai Io voglio lo squalo Però Ok Sto dicendo Glielo vorrei dire Però Lo sanno che Sono fuori safe E E E vabbè La nuova arma Di Miasco No Per giunta leggendaria No di Miasco La di Leggendaria Questa in un colpo Deve ammazzare tutti Madonna mia Troppo forte Questa deve essere Raga Aiuto Si che La voglio usare Però Ok Uè Aiuto Raga Mi ha fatto venire un colpo Ma Perché non posso Ok Sbagliavo Il pulsante Vieni così Signore Vediamo Però adesso Muoviamoci Che Mannaggia La tempesta Raga la tempesta Ok andiamo Andiamo Devo correre Aspetta voglio imparare Però magari Quanto cacchio Va veloce Raga quanto cavolo Va veloce Però si è lagato Tutto Questa è una cosa Che non mi piace Troppo si è lagato Le case Non puoi entrare Nessuna parte Anche se io ci riesco Lo stesso a entrarci Però Di altri No L'hydropp è tornato Normale Però forse L'unica cosa Che doveva rimanere Di depo Perché era bella Era L'hydropp Perché l'hydropp ora È praticamente Una schifezza Però ci trovi Lo stesso Belle cose Questa è una bella cosa Questa è una bella cosa Questa è una bella cosa Raga 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 Ma che Pesso Aspetta Vediamo se Gli tiro questa Forse si calma No Non si calma Usa e getta Ma che Ma che Cavolo È Ok siamo In dieci Possiamo fare Vettoria reale Potrei Oh mio dio Date la camera Impazzita Io e il mio Pirata Andiamo Da qualche Parte Con questo Eeeh Magalina 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 Eeeh Sono entrato In garage Che bello Sono veramente Felicissima Qua cosa c'è Prenditela Ma che cosa Fai No Fammi guidare A me Ma che cacchio Fai Ma questo Ha problemi Ma non Sa guidare Aspetta che Metto un po' Di Vai Andiamo Io ho bisogno Proiettili Deve Adesso Vediamo Se ce li Proiettili Ah Eccolo 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 Stavo parlando Con mio Cosa è successo Raga Raga Che C'è qualcuno Ma non è una bella cosa Raga Devo andarlo a salvare No vabbè Ci sta andando Questo Ok Tutto a posto No Aspettate raga Mi bevo questo Adesso lo vado a salvare Non vi preoccupate Ok No È morto Ok L'ha presa Qualtissima Dov'era Dov'è quello Ah Chiudiamo Non potrà venire mai Se facciamo così Oh però Lui riuscirà a sopravvivere Mi sa Raga però io forse no Oh Bro Troppo bravo Troppo bravo È stato sto tizio Però c'è bisogno di materiale Raga Troppo bravo è stato Troppo Troppo Mi faccio i miei complimenti Da Mag No raga Fa malissimo Ah Aiuta Raga Dai Non voglio di nuovo morirci Ma quanto va veloce Ma che cavolo Ma quanto va veloce Non farti sta cosa Ma Ma adesso io mi devo fare Il 40 milioni Di Di Bende Guarda chi glielo dice a questo Che c'è bisogno di bende No Potrei segnarle Però Tizia Eh Eh C'è bisogno di Di bende Comprendo Ma quello se n'è andato Ho detto no No Questo tizio è troppo scarsa Non posso farlo Tanto non mi rianimerà mai Perché Scemo Che cosa è successo Ok Eh Mamma mia Ma là c'è l'eye drop Andiamo all'eye drop Però no No Ci andranno tutti Io Non voglio perdere Questa partita Quindi Andiamo via Cosa cacchio Ragazzi Oh no No dai no Terzi Sto tizio ha fatto vittoria Il reale No no Non ci voglio credere Non ci voglio credere mai Aveva pure il rampino No raga No Non ci voglio credere No Non ho preso niente Dai Costruiamo l'ombretto Non posso neanche costruirlo Ma dai Giochi di spi Escol Ah no Schede appunto Ok ok Questo qua è bellissimo Però mi piace di più Però come lo avrei Per guardare Tutte le ricompensate Ah Lui non è una ricompensa Lui non è del pass battaglio Ma che cosa Accom Il re Spirge senza rivali Come tutte le sfide Ok Vabbè Quante sono Le cose di Accom E sono Usa un mulinello Raga Scrivetemi Scrivetemi Nei commenti Che cavolo È il mulinello È il mulinello Perché se no Non lo capirò mai Ehm Miascolino Birichino Oh mio Dio In pratica Non è Miascolo Perché dico Miascolo Vabbè Vabbè è Miascolo Praticamente Comunque non ha truffa Non è stato mangiato Dallo squalo Pure loro Pure loro sapevano Che sarebbe stato Troppo crudere Vero 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 Se pure a voi Dopo Questo aggiornamento Vi si blocca Uff Animo La smattoglia Tra un po' Si prende 100 V-Bats Perché Io li voglio Perché Voglio Verli Di nuovo Quindi Vabbè Facciamo questo Oppete Iappete Qual è l'altra? Schiacciata terrestre Vabbè Praticamente Uguale Comunque È praticamente Uguale Vabbè Andiamo a questa No Dove Miascolo Ah Finalmente ho avuto Brutus Così Ma che cazzo Ah Oh Yeah Non posso Pioverlo Più di così Ormai Nella fine No Perché No Infatti Non c'è più Non posso Pioverlo Bela niente Dai Raga Questo Che cos'è? Lo sai Non ho Lo sai Da questo Ah Mettiamo C'è questo E qua Cosa ho sblocato In pratica Ho sblocato Solo questo Ah Mannaggia 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 Eh sì Più stile Qua Cosa ho sblocato Di Ue La Che cosa È questa Scoreggia Poi qua C'è un altro Ne ho sblocato Ah no È questo Eh sì Infatti C'è Rez Sì Rez Rez Cosa Chi è Ma è bruttissima Comunque Tutti I spoiler Non c'è stato Praticamente Niente Perché raga Guardate Non c'è Nessuno Di quelli Che avevano Detto Miascolo In quel modo Tipo Proprio Tutto Robotico È Più carino Devo Dire La verità Ah questo è gratis Ah sì Infatti Quello che ho messo Credo Ah Questa skin È bella Ma Veramente 10 livelli Che cosa devo fare Oh no Acquisto 10 livelli Tipo in più Ah ragazzi Ma che ora Ok Darius Vabbè Perché l'ho invitato Perché Perché Ragazzi Per oggi è tutto È durato un bel posto Più lungo Che Cos'è Questa skin Wow E' troppo Bellissima Vabbè Ragazzi Per oggi è tutto Con Franciotto Ciao 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 Ciao